Un doppio terremoto ha svegliato i residenti dell'area flegrea la scorsa notte. Numerose segnalazioni sono giunte dagli abitanti di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida e del quartiere Bagnoli di Napoli. Il primo sisma ha fatto registrare una magnitudo di 2,4 mentre il secondo ha raggiunto 1,2. Come è noto i campi flegrei sono soggetti a costante monitoraggio da parte degli esperti a causa del sollevamento del suolo e dell'attività vulcanica. Per questa ragione infatti lo scorso 22 aprile è stata condotta la prima simulazione di evacuazione fra le tre programmate. Quattro scuole tra Napoli, Pozzuoli e Bacoli sono state coinvolte con l'obiettivo di testare l'efficienza dei centri di coordinamento e delle sale operative in caso di intensificazione dei fenomeni bradesismici. Altre esercitazioni saranno invece eseguite il 30 e il 31 maggio e ad ottobre quando saranno simulati rispettivamente il secondo e terzo scenario previsto dal piano di emergenza.